ciao artigiano oggi ti spiego perché se devi fare dell'unione con le viti ti conviene fare il pre foro e anche svasare ovvero creare la sede per la testa della vite ti mostrerò anche diversi tipi di svasatori che fanno il pre foro oppure no in più ti farò vedere anche come rimedio un errore che ogni tanto commetto per distrazione più che altro dunque svasatori ce ne sono economici e meno economici questo è uno tra i più economici un tagliente solo non è granché attacco cilindrico quindi va bene per essere preso con il normalissimo mandrino del trapano si utilizza dopo aver fatto il foro con una punta qualsiasi si appoggia l'imboccatura del foro si fa lavorare sino a che la svasatura non va bene per accogliere la testa della vite leggermente migliori di questo c'è questo sempre economico ha più taglienti quindi la polizia di taglia maggiore è anche più rapido nel fare la svasatura in più all'attacco esagonale che va benissimo per essere innestato nel porta inserti o c'è questa tipologia che praticamente è lo svasatore che va ad avvitarsi a una normalissima punta oppure può essere una punta dedicata come in questo caso svasatore va accoppiata la punta quindi diametro 4 punta da 4 questa punta risulta già più comodo perché in una sola passata può fare il foro più la svasatura ovviamente non ha una regolazione di profondità quindi lì si va a occhio la noia può essere dovuta all'attacco cilindrico che mi comporta il fatto che devo montare e smontare punta e porta inserti infine c'è questo questo posso dire che il migliore che ho è quello che utilizzo di più con la punta oltre a fare il preforo riesco anche a svasare inoltre questa plastica qui non è altro che un limitatore di profondità l'attacco molto particolare è sia esagonale per essere montato in un qualsiasi porta inserti ma soprattutto è fatto apposta per essere montato sui mandrini tipo centro tech della festul ovviamente essendo della festula ha una qualità di materiale innanzitamente diverso da quelli che ti ho fatto vedere prima in più è completamente regolabile se noti qui ha una brugola si vede attraverso questo foro tra l'altro questo foro nella plastica questa e questa sono fatti per scaricare il trucciolo durante la fase di svasatura vi stavo dicendo questa brugola che c'è qua se la svito mi dà l'opportunità di regolare la fuoriuscita della punta quindi potrò fare un preforo più profondo meno profondo la punta ovviamente è una punta dedicata quindi si trova tranquillamente come ricambio della festul è una punta da quattro e mezzo mentre questa brugola che c'è qui mi permette di regolare la fuoriuscita dello svasatore stesso quindi io riesco a aumentare o diminuire la profondità della svasatura anche questo ovviamente si trova come pezzo di ricambio basta stringere bene queste due brugole e ti assicuro che questo svasatore lavora alla perfezione per dimostrarti come funziona questo e questo faccio due buchi questo è quello a un tagliente solo e questo è sempre quello economico però con più taglienti entrambi hanno svasato questo a un tagliente solo ovviamente ha avuto difficoltà a rimanere concentrico al foro l'altro con più taglienti è rimasto più centrato sul foro il problema di questi due è che comunque non puoi controllare nella profondità se non ha occhio quest'altro tipo come ti ho già detto unisce il fatto che può fare il foro insieme alla svasatura ovviamente se non ha occhio non puoi controllare la profondità con questa punta ho fatto tre fori diametro 4 mm la differenza sta nell'ampiezza della svasatura su questo modello è presente il limitatore di profondità infatti dà l'opportunità lavorando in serie di ottenere fori del tutto identici sia come diametro del foro sia come ampiezza della svasatura nota come sono tutti perfettamente identici adesso tu ti chiederai ma è assolutamente necessario fare il preforo con la svasatura se io devo unire due pezzi di legno non riesco a fare quest'unione anche senza il preforo utilizzando il preforo ti dico subito che uno riesce a essere molto più preciso quindi la vita andrà dove vuoi tu e non dove vuole lei la vite senza preforo entrando in questo pezzo di legno incontrerà una certa resistenza questa resistenza può farli cambiare anche di poco anche di un millimetro la direzione la posizione questo può portare un lavoro poco preciso inoltre senza preforo i due pezzi di legno che stai tentando di unire possono spaccarsi soprattutto se stai lavorando sull'estremità di questi quindi visto che con il preforo si può evitare tranquillamente di spaccare la tavoletta all'estremità ora c'è da dire una cosa ma è obbligatorio fare la svasatura la svasatura quando è obbligatorio è obbligatorio soprattutto quando si tratta di lavorare con essenze molto dure al di sotto della svasatura della testa delle viti sono presenti delle alette queste alette girando aiutano la testa a creare la propria svasatura questo non succede nelle essenze molto dure come ad esempio nel faggio o altri tipi di essenze e quindi può capitare che la testa rimane così non va a filo del legno perciò ricorda se lavori con essenze particolarmente dure foro più svasatura come puoi notare la differenza cioè si vede qui senza svasatura qui con la svasatura con diverse ampiezze di svasatura è possibile anche far entrare teste di viti più piccole sempre a filo legno ora ti chiederai che tipo di punta devo utilizzare per fare il preforo in base al tipo di vite che devo utilizzare per fare l'unione allora come mi regolo io se so che il preforo interesserà le due parti che dovrò unire devo fare attenzione perché perché poi questo non deve essere di diametro uguale o maggiore alla filettatura della vite ad esempio questa vite che ho qui in mano vado a misurare il diametro alla filettatura a 493 io so che questa punta qui è 4 e mezzo quindi la presa sarebbe veramente minima ma se vado a misurare il fusto diciamo della vita ora non mi ricordo esattamente il termine tecnico questo diametro scende a 3.14 io non ho punte da 3.14 da 3 mm sì però magari un po troppo poco quindi potrei tranquillamente utilizzare una punta da 3.5 mm sapendo poi che il diametro esterno alla filettatura è di 4.95 ho un buon margine quindi so che la filettatura farà una buona presa nel legno allora piccolo consiglio devi fissare un legno un qualsiasi pezzo di legno un travetto con un tirafondo quindi di conseguenza meglio se ci metti una rondella per fare questo hai bisogno di fare il foro per ospitare la rondella e la testa del tirafondo e in più il foro per far passare lo stesso tirafondo in ordine si fa prima il foro forstner dopodiché quello passante cosa succede se fai l'inverso che poi non riuscirai a fare il foro forstner cosa succede se il pezzo è quello non puoi cambiarlo non hai voglia di rifarlo che devi tentare di recuperare allora vediamo cosa succede se faccio prima il foro passante e poi cerco di passare con la forstner sopra è difficile ottenere i due fori concentrici posso riuscirci con un po di fortuna ma comunque non è proprio il metodo ideale voglio recuperare questo foro quindi prendo una spina dello stesso diametro della punta che ho appena utilizzato la batto dentro se andrò a poggiare il centrino della punta forstner sulla spina riesco a lavorare meglio con la punta forse perché il centrino è in appoggio e riesco anche ottenere i due fori perfettamente concentrici premere dare un colpo e il foro si libera dalla spina sono riuscito a rimediare al mio errore e quindi il tiraffondo andrà dove avevo preventivato artigiano un'ultima cosa quando lavori con essenze dure come questo che è faggio il preforo è assolutamente importante ora ti faccio capire perché legno 1 tiraffondo 0 c'è anche da dire che il pdc 18 è micidiale artigiano con questo è veramente tutto fammi sapere se il video ti è piaciuto noi ci sentiamo domenica e quindi non mi resta che augurarti ancora buone feste divertiti in queste vacanze natalizie ti sei guardato il video che ho pubblicato ieri e l'altro ieri auguri stami bene ciao artigiano ciao